Domani saremo a Viareggio per portare la nostra massima solidarietà, la nostra portavoce Anna Maria Facilio. Quelle che sono state le minacce ricevute dal Presidente del Consiglio e dal Vice Sindaco sono inaccettabili. Pretendiamo le pubbliche scuse e le dimissioni che devono essere rivolte alla cittadinanza tutta. Matto è chi tiene la mafia dentro lo Stato, non chi la combatte.